Se trovo un nemico sceldato, il video finisce Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo verso Pleasant Park per tentare la sfida di oggi che è Se trovo un nemico sceldato, il video finisce So che è praticamente una sfida, vediamo quanto tempo passa prima che io trovi un nemico sceldato Però è divertente, quindi volevo farla Comunque come potete vedere abbiamo una nuova cornice con sopra il codice creatore e sotto il mio nome Fatta da un mio fan che si chiama tryogdesign su Instagram Se anche a voi servono grafiche o design, ragazzi, contattatelo perché come potete vedere sa il fatto suo Allora, intanto io qua trovo un arpione Bello, dovrei dire Oh yes, dude Il tuo stofani non ha capito niente, non ha compreso proprio cosa è successo e la cosa era divertente Comunque, tenendo conto del fatto che io sto girando con un... cioè il nulla cosmico Direi di prendere velocemente almeno un'altra arma decente Con decente intendevo decente sul serio, cioè nel vero senso della parola Va bene, comunque tu non hai shield, quindi mi stai comunque simpatico Nonostante il fatto che anche tu avessi tipo nulla a livello di armi Vediamo Dai, dai, e vabbè No ragazzi, dai, devo colpirlo, ti prego Ok, colpito è white Dai Oh, questo è dove... Oh, che... Buongiorno Grazie a tutti.